Gesù si fa battezzare da Giovanni che vorrebbe impedirglielo perché è venuto proprio per colmare la distanza tra l'uomo e Dio e con il battesimo al Giordano si realizza il disegno del padre che passa attraverso la via della solidarietà con l'uomo fragile e peccatore, la via dell'umiltà e della piena vicinanza di Dio e i suoi figli. Lo ha detto Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus, recitata dalla finestra del suo studio che dà su piazza San Pietro nel giorno della festa del battesimo di Gesù. Quando lo Spirito Santo in forma di colomba si posa su Gesù inizia pubblicamente la sua missione di salvezza caratterizzata dallo stile del servo umile e mite munito solo della forza della verità. Questo ha spiegato il Papa e lo stile missionario dei discepoli di Cristo annunciare il Vangelo con mitezza e fermezza senza arroganza o in posizione. La vera missione non è mai proselitismo, ma attrazione a Cristo. Ma come? Come si fa questa attrazione a Cristo? Con la propria nostra testimonianza. A partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, nell'adorazione e nella carità concreta che è servizio a Gesù presente nel più piccolo dei fratelli.